signori e signori buonasera benvenuti a casa mia benvenuti e ben ritrovati qua nel solito disordine della mia libreria da me e dai miei occhialini da lettura chiedo scusa ma questa volta leggerò e ho bisogno oggettivamente delle lenti allora cari signori oggi tocchiamo un argomento estremamente caro agli appassionati di wunderwaffen parliamo nuovamente di wunderwaffen perché parliamo della più fantomatica della più celebre della più celebrata della più come dire clamorosa arma segreta del nazismo ovvero sia die glücke la campana questo attrezzo qua lo vedete eccolo qui questo attrezzo qui die glücke la campana che cos'era questa roba allora 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 nel loro libro giorgio bergamino e gianni palitta parlano del fatto che nel 2000 il giornalista poracco igor vitkowski pubblicò il libro nova prauda a wunderwaffe nel quale parlava di una ipotetica arma segreta chiamata die glücke sviluppata dai nazisti negli ultimi anni della seconda guerra mondiale secondo il giornalista polacco si trattava di un'arma a tecnologia avanzata legata all'antigravità o all'energia nucleare che si stava elaborando nel complesso riese nelle miniere di wenceslaus il progetto sarebbe stato portato avanti dal misterioso generale del ss hans kammler tecnico scientifico e si sarebbe trattato essenzialmente di un veivolo segreto tecnologicamente avanzatissimo con un diametro di 3 metri e 10 e un'altezza di 4 metri e 95 composto da due cilindri controrotanti con all'interno uno strano liquido color porpora denominato xerum 525 il quale ruotava all'interno della campana ad alta velocità a causa della sua forte radioattività il combustibile era contenuto in recipienti in piombo che avevano uno spessore in più di più di tre centimetri ma nonostante queste precauzioni witkovsky sostenne che durante le prime sperimentazioni sarebbero morti oltre 60 operai e che anche per queste ragioni oltre al fatto che quell'arma necessitava di una eccessiva quantità di energia elettrica il progetto sarebbe stato sospeso va comunque detto che il libro di witkovsky è ad oggi l'unica fonte della quale si parla nella della cosiddetta campana nazista e non risulta che siano state trovate tracce tali da far presupporre che un esperimento di questo tipo fosse stato portato avanti dagli scienziati tedeschi io ho visto qualche tempo fa in televisione su focus un documentario sulla caccia a questa fantomatica campana da parte dei conduttori televisivi di un programma sugli ufo indipendentemente dal ridicolo fanatismo di bill burns il famoso editore di ufo magazine noto per i suoi atteggiamenti da macchietta quando si tratta di di ufo di dischi volanti dicevo i dubbi rimangono sulla esistenza della cosiddetta dieglook la campana tra le tra i luoghi che le leggende naziste indicano come basi per un test di lancio della campana uno è nei pressi della miniera di sam venceslao a ludvicovice oggi in polonia e lì è ancora oggi visibile una strana struttura in cemento armato che si vuole fosse circondata da cavi elettrici in rame dallo spessore di un braccio di un uomo e che portavano al deposito sotterraneo della campana alcuni sostengono che le ricerche condotte nei paraggi abbiano individuato la presenza di isotopi radioattivi che potevano essere stati originati solo da forti fasci di neuroni a vabbè questo dicono e allora secondo queste supposizioni la costruzione di ludvicovice dovrebbe servire come banco di prova di potenti sistemi di propulsione forniti da fonti di energia allora sconosciuti i fautori di queste tesi contestano la versione ufficiale che ritiene quella costruzione circolare neanche niente meno niente più di una base di appoggio per la torre di raffreddamento di una centrale elettrica purtroppo anche questa tesi non può essere provata perché i tedeschi in ritirata distrussero completamente la miniera di san venceslao prima che gli alleati arrivassero in quella zona allora questa foto questa foto questa foto raffigura la misteriosa struttura di ludvicovice che viene definita come la base di ancoraggio della misteriosa campana nazista un'arma che oggettivamente non si è mai capito a che cazzo potesse servire quale armamento potesse avere quale fossero le sue funzioni non si è mai capito e già questo qui rende l'idea della plausibile palla che potrebbe essere questa questa meravigliosa arma questa dieglo che sarebbe ripeto questa qua questa eccola qui la campana la campana nazista anche in questo caso nei giorni moderni tanta gente ne scrive tanta gente ne parla tanta gente ne fa modellini dipinte quant'altro per cosa per questioni economiche perché c'è gente che questi modellini li compra che li fabbrica c'è gente che questi modellini li cerca c'è gente che legge queste cose perché siamo sinceri al vedere una svastica nazista ci sono persone che hanno potenti erezioni quando si tratta di queste cose io purtroppo non ci posso fare niente perché sinceramente se devo eccitarmi sessualmente scusate ma io penso alla mia amata fidanzata quindi diciamoci la verità anche dieglo che è un'altra delle tante panzane inventate nel dopoguerra per fare soldi usando voci dal sen fuggite risalenti alla fine della guerra c'è tra l'altro bill burns il fanatico che conduceva i programmi sugli ufo su focus capitò in questa famosa struttura circolare che qui è scritto si presume fosse base di una torre di raffreddamento in realtà è la base di una torre di raffreddamento perché a neanche un chilometro da questa struttura abbandonata dalla base della campana dal luogo in cui la campana veniva costruita c'è una torre di raffreddamento intatta costruita nello stesso identico modo tutto qua solo che come dire i fanatici i convinti coloro che hanno bisogno di un'attività alternativa di 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 coloro che vogliono a tutti i costi credere che ci sia qualcosa di più e di oltre questa terra qualcosa di extraterrestre qualche cosa di magico qualche cosa di mitico qualche cosa di spaziale io posso dire soltanto una cosa da quello che mi sono roso conto leggendo sulle mie riviste sui miei libri così la maggior parte delle voci sulle wunderwaffen sono palle 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 progetti di massima scarabocchi su un tavolino disegnini fatti non dico per passare il tempo ma per evitare un viaggio di sola andata per il fronte russo e gli orten ne sapevano qualcosa i fratelli orten andarono avanti con i loro inutili studi sulle ali volanti per anni perché perché altrimenti avrebbero dovuto essere spediti sul fronte russo e signori la furbizia dell'imboscato non abbiamo non l'abbiamo mica inventata soltanto noi italiani anche i tedeschi ne sapevano qualcosa e i fratelli orten erano autentici maestri in materia fate un po come volete ripeto le armi segrete tedesche le wunderwaffe tedesche furono tante ma tantissime furono inventate la più clamorosa delle invenzioni veramente la più clamorosa delle invenzioni del del reich la la campana diegloch eccola qua di nuovo questa qui eccola la campana diegloch che non si è mai capito a cosa potesse servire che non si è mai capito a che pro potesse funzionare eppure nel corso degli ultimi 20 o 30 anni diegloch è diventata un must per i maestri del what if aeronautico il cosiddetto filone luft 46 ed è diventata un mito per tante persone che spesso anche in buona fede ne parlano come di un'arma che avrebbe potuto essere risolutrice per i destini della seconda guerra mondiale la realtà è che se mai una diegloche una campana ci fu non fu mai appunto e che soprattutto fu l'ennesimo ennesimo ennesimo spreco di tempo risorse denaro combustibili materiale eccetera 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 in una germania in agonia che non aveva più forze per fare niente a parte progettare e collaudare migliaia di fantasiosi scarabocchi quindi cari signori io diegloch la campana e la sua casa presunta vi salutiamo e ci diamo appuntamento al mio prossimo video spero che vi sia piaciuto e di tutto cuore vi auguro la buona notte arrivederci arrivederci ciao 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 ciao